Grande attesa a Siracusa, arriva il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e qui, proprio qui, verrà scoperta la targa in memoria del Presidente Sheriff Bassioni dell'ISIS oggi del Siracusa International Institute, quindi grande fermento per questa grande visita e probabilmente a mia memoria il secondo Presidente della Repubblica Italiana che reca visita a Siracusa il primo fu Ciampi per la scopertura della targa dell'UNESCO in Piazza Duomo quindi si attende Mattarella per domenica, grande anche manovre per quanto riguarda la sicurezza ci sono state delle direttive, un protocollo ben specifico e serrato, oltre il quale non bisogna andare la stampa sarà lì a pochi metri dalla scopertura della lapide qui in Piazza Logoteta e Ortigia, come tutto questo luogo, verrà completamente blindato con delle transenne quindi non sarà possibile accedere all'interno dell'isola sempre di più anche in occasione di questo importante evento quindi c'è il ricordo del Presidente Bassioni, fondatore di questo istituto a Siracusa importante in tutto il mondo, si disse un porto nel Mediterraneo per far incontrare gente che non si parla più Sì, in questo momento di dibattito a livello europeano su questioni relative alla questione della migrazione dei diritti umani, è importante di avere un istituto come quello che può dare una visione scientifica di tutte queste istituzioni, come fare che i diritti di sicurezza, perché la sicurezza è un diritto fondamentale si può conciliare con il diritto fondamentale che è quello del diritto alla vita è immenso, il Professor Bassioni è il padre del diritto penale internazionale è il padre della Corte Penale Internazionale che infatti è stata creata qui la prima redazione dei statuti della Corte erano scritti qui all'istituto di Siracusa dunque è immenso l'eritaggio del Professor e quel riconoscimento prima dell'importanza del lavoro del Professor Bassioni dell'importanza della persona del Professor Bassioni ma anche un riconoscimento dei valori che porta all'istituto valore di diritti umani ma anche valore di lotta contro la criminalità organizzata contro la violazione dei diritti dei vittimi in particolare Bassioni diceva l'isisce porto del Mediterraneo dove far incontrare gente che non si parla più sì, ovviamente il ruolo dell'istituto fra gli anni era di far incontrare persone dell'ovest e dell'est al momento dei due blocchi dell'est e dell'ovest ma oggi è vero anche per paesi che non si parlano più abbiamo avuto qui professori, giuristi di paesi come Israele e Palestina abbiamo avuto persone di Venezuela degli Stati Uniti e dunque è veramente un luogo dove tutti si parlano senza barriere diplomatiche Cosa vuol dire l'ISIS per la città di Siracusa? Che diventa anche un momento di grande riflessione politica internazionale Per la città di Siracusa è un'opportunità per essere conosciuta da tutto il mondo il mese di luglio abbiamo avuto procuratori da tutto il mondo che sono venuti da New Zealand, Australia, Argentina la settimana passata ero in Johannesburg in Africa del Sud dove c'era una conferenza dell'associazione internazionale dei procuratori il nome dell'istituto di Siracusa e dunque il nome di Siracusa è stato pronunciato molte volte di fronte a più di 500 procuratori che erano qui dal mondo dunque la città di Siracusa è molto importante per l'istituto ma l'istituto è anche un ambasciatore della città di Siracusa è la seconda volta a mia memoria che un presidente della Repubblica Italiana viene a Siracusa a recare visita per voi è un'occasione importante ecco come vi state preparando a ricevere il presidente Mattarella sì abbiamo preparato questo da mesi come puoi immaginare è tanto importante per l'istituto ancora una volta un riconoscimento per noi è un'indicazione forte per la parte del presidente della Repubblica per il lavoro e i valori che sono portati dall'istituto avete delle proposte, delle richieste da fare al presidente Mattarella? la prima è di continuare a avere il sopporto dello Stato italiano ma anche delle istituzioni italiane abbiamo molto bisogno del sopporto di tutte le istituzioni tutte le comunità italiane perché questo lavoro non possiamo farlo da solo Sheriff Bassiuni e il presidente Mattarella non si conoscevano però il fratello del nostro presidente Pier Santi Mattarella ucciso dalla mafia è stato presidente onorario dell'Isis ovviamente dopo la sua morte sì l'istituto era già presente qui in Sicilia quando è morto Pier Santi Mattarella e che è stato fatto presidente onorario dell'istituto di Siracusa dunque Sheriff Bassiuni conosceva molto bene già presidente della regione Mattarella ma non conosceva il suo fratello oggi presidente della Repubblica Italiana dunque c'è una relazione intima tra l'istituto e il presidente e all'interno di una delle stanze dell'istituto c'è anche una targa che ricorda Pier Santi Mattarella sì abbiamo fatto una targa in memoria del presidente Mattarella nella sala del consiglio d'amministrazione grazie